In un oscuro e sconvolgente capitolo della cronaca, Maria Kindamo, una donna imprenditrice di 42 anni, è stata brutalmente uccisa e il suo corpo, in un macabro atto, è stato consegnato alle fauci voraci dei maiali. Questo terribile evento è avvenuto il 6 maggio 2016, nell'incantevole cornice di Vibo Valentia, ma solo ora. Grazie alle indagini condotte dalla DDA di Catanzaro nell'operazione maestrale Cartago, la verità sta emergendo. Oggi, un nuovo capitolo di questa oscura vicenda si è aperto con l'arresto di ben 84 individui da parte dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia. Tra questi arresti spicca quello di Salvatore Ascone, 57 anni, un uomo coinvolto in questo terribile delitto e ora portato alla giustizia. L'inchiesta ha rivelato che Maria Kindamo è stata vittima di un orribile destino a causa della sua relazione sentimentale con Vincenzo Puntoriero, una relazione che aveva scatenato l'ira di individui senza scrupoli. Ascone, insieme a due complici, uno dei quali era ancora minorenne all'epoca, ha perpetrato questo crimine atroce. Purtroppo, uno dei complici è nel frattempo deceduto. Le indagini hanno inoltre svelato che dietro questo orrendo crimine potrebbe celarsi l'avidità di alcune cosche Ndrangheta del Vibonese, interessate a terreni di proprietà di Maria Kindamo. L'imprenditrice aveva recentemente acquisito queste proprietà e sembra che questo potesse essere il movente dietro il suo assassino. Oggi, mentre la giustizia si fa strada e la verità viene finalmente alla luce, non possiamo che esprimere il nostro sconcerto e la nostra indignazione per questo terribile crimine che ha sconvolto la comunità di Vibo Valentia e oltre. La memoria di Maria Kindamo sarà onorata dalla ricerca della verità e dalla giustizia che ora si sta cercando di ottenere per lei. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.